Buon pomeriggio a tutti, eccoci live sulla pagina Facebook con corsi di formazione giuridica 2022 e siamo qui live con una nuova puntata con il nostro speciale focus sulle elezioni politiche. Ovviamente come avete avuto modo di vedere anche nelle scorse puntate abbiamo scelto di intraprendere un percorso di interviste ai vari candidati dei vari schieramenti politici. Come sempre, sottolineo sempre, ecco, in una posizione di neutralità, quindi il Centro Studi Piero Calamandrei si pone in una posizione, diciamo, di super partes perché il fine è quello di apportare un servizio di informazioni a chi ci segue sempre con pronta attenzione, ai fini poi chiaramente di un raggiungimento, di una consapevolezza del voto. Quindi l'obiettivo è questo, è fornire informazioni per avere una consapevolezza del voto e poi chiaramente andare a votare, insomma, chi è più aderente alle proprie ideologie. Detto questo, come sempre, faccio una piccolissima, brevissima introduzione di quella che è la nostra realtà. Noi siamo il Centro Studi Calamandrei, ci occupiamo di alta formazione, principalmente giuridica. Ricordo il corso di esame avvocato, che è il nostro fiore all'occhiello. Più del 90% dei nostri studenti superano il corso di esame avvocato, il concorso di preparazione all'esame di avvocato. Quindi, come sempre, vi ricordo e vi ripeto che le iscrizioni sono ancora aperte, anche se i posti sono limitati, quindi affrettatevi se avete intenzione di iscrivervi e potete chiaramente contattarci privatamente. Stesso vale per tutta la nostra offerta formativa, per tutti gli altri corsi che stiamo avviando. Ricordo anche il corso di preparazione a Comune di Napoli, che sta riscuotendo un grande successo con tante iscrizioni, un boom di iscrizioni. E poi, ovviamente, lo stesso vale per l'intera offerta formativa. Detto questo, vi ricordo i prossimi anche appuntamenti. Vi ricordo l'appuntamento di domani, ore 17, con la candidata Mariana Ricciardi. Venerdì, ore 10, con il presidente del COA di Giorra Annunziata, l'avvocato Luisa Liguola, candidata a Terzo Polo. E poi, vi ricordo, gli appuntamenti didattici di sabato, ore 15, ritorno alla diretta di risoluzione tracce di diritto civile e diritto penale. Detto questo, io non voglio dilungarmi oltre a mente. Saluto Rossella, saluto Giovanna e Gioia, che vedo che stanno commentando, e quindi chi sta entrando nella diretta. E vado subito a presentare, a salutare e anche a ringraziare l'ospite di questo appuntamento, di questa nuova puntata, il dottor Luca Stancariello, che è candidato con Fratelli d'Italia. Buonasera e grazie per la partecipazione. Buonasera a lei. Grazie. Buonasera a chi ci aspetta. Allora, partiamo subito con il nostro dialogo. Da una prima domanda. Ecco, l'attuale legge elettorale presenta indubbiamente delle criticità. Quindi il tema è quello della legge elettorale. Sul piano della rappresentanza di un numero così elevato dei cittadini, chiaramente presenta appunto dei punti critici. Ecco, in caso di elezione, come pensa poi di ovviare a questo problema, che riguarda la legge elettorale? Sicuramente questa è una legge elettorale che presenta delle criticità palesi. La prima delle quali, ma non solo l'unica, è rappresentata dalla dimensione di questi collegi che oggettivamente creano le condizioni per un ulteriore allontanamento dell'eletto dalle eletture. Come ovviare a questa oggettiva difficoltà che ciascun rappresentante avrà l'indomani della tornata elettorale? Sicuramente io faccio molto affidamento su quelli che amo definire i cuscinetti intermedi. Cioè sostanzialmente la rivalorizzazione dei partiti innanzitutto che devono riprendere ad assolvere al proprio ruolo associazioni di qualunque natura, le categorie di qualunque natura. È importante il dialogo con queste in quanto la mancanza di dialogo, con la mancanza di comunicazione, esporrebbe qualunque parlamentare o qualunque senatore a rischio di trincerare e perimetrare la propria attività parlamentare soltanto alle aule medesime. Mentre invece, secondo me, proprio in considerazione della riduzione del numero dei parlamentari e dunque dell'estensione dei collegi che ciascun rappresentante dovrà appunto rappresentare, è necessario rivalutare quelle che sono le forme più antiche per un normale e ottimale svolgimento delle proprie funzioni, ossia quelli che io amo definire, come dicevo all'inizio di questo mio intervento, i cuscinetti intermedi. Quindi io faccio politica attiva da tanti anni e negli anni ho visto anche un venir meno di quelle che sono le funzioni importanti di collegamento tra eletto ed elettore, e rappresentare dei partiti politici presenti sul territorio, per cui anche la rivalorizzazione degli stessi permetterebbe sicuramente un punto di collegamento tra eletto ed elettori, tra le istanze del territorio e quelle che devono essere portate poi a livello centrale. È ovvio che in tutto questo è importante poi avere un'interlocuzione aperta anche con quelle che sono le istituzioni locali, è importante che si venga a ripristinare quello che forse negli ultimi anni è mancato, soprattutto con la forte presenza dei Cinque Stelle che si sono profondamente allontanati dai territori. È importante ripristinare il collegamento tra gli enti locali e le istituzioni centrali, quindi a prescindere dalla colorazione politica degli enti locali è importante che ci sia questo continuo interfacciarsi per capire dal territorio quali sono le esigenze, quali sono le disponibilità che il parlamentare o il può dare a questi territori perché la vastità dei collegi impone tutto ciò, altrimenti diventerebbe umanamente impossibile poter rappresentare in maniera dignitosa e seria quasi 900.000 elettori nel caso ad esempio del mio collegio, al Senato addirittura quasi si raddoppia poco meno di raddoppiarsi questo numero. Stiamo parlando di numeri veramente impressionanti rispetto al singolo eletto. Allora io credo molto che l'organizzazione sia alla base un po' di tutte le attività e l'organizzazione deve essere alla base anche dell'attività di parlamentare, di quel parlamentare che voglia fare appena il proprio dovere. Chiaro, molto chiara la sua posizione, ma andiamo avanti. Ecco, sempre in caso di elezione, quali sarebbero le tematiche sulle quali vorrebbe concentrare poi la sua attività istituzionale? Io credo che fondamentalmente sicurezza, lavoro e ammortizzatori sociali siano a mio avviso gli elementi che necessiteranno di essere valorizzati soprattutto per quanto riguarda il territorio che andrò a rappresentare. Avere potuto anche estendere il concetto al problema del problema legato al campo energetico o comunque al problema dell'inflazione caloppante che in questo periodo c'è. Però io penso che per quanto riguarda il territorio che andrò a rappresentare, il problema della sicurezza sicuramente rappresenterà una priorità. Noi abbiamo territori in cui oggettivamente la gente percepisce un clima di insicurezza anche semplicemente nel camminare per le nostre strade. Secondo me è importante valorizzare e dare forza non soltanto alle forze dell'ordine che comunque debbono essere sostenute ed aiutate garantendo una maggiore presenza sul territorio e garantendo anche un maggiore funzionamento delle strutture logistiche. Io ho avuto modo di vedere in queste settimane di campagna elettorale alcune di queste strutture e devo dire che in alcuni casi ci sono condizioni di disagio logistico per coloro i quali sono operatori del settore. Ma il problema della sicurezza a mio avviso va anche affrontato cercando di incentivare quelle che sono le forme di stimolazione culturale e soprattutto delle future generazioni. Io credo che per allontanare il giovane dalla criminalità organizzata si debba cercare di stimolare le amministrazioni locali in progetti che coinvolgano i ragazzi sul nostro territorio facendo sì che non possano prendere altre strade facendo sì che la cultura della legalità, la cultura della trasparenza, la cultura del comune vivere civico rappresentino la base del loro vivere quotidiano. Questo non accade nel momento in cui le istituzioni sono completamente assenti, nel momento in cui le istituzioni abbandonano a loro stesse questi giovani perché è chiaro che nel momento in cui c'è richiamo al guadagno facile, cioè richiamo al soldo facile che magari viene offerto da determinati ambienti, è chiaro che i giovani magari sono spinti quasi a seguire strade che non sono proprio quelle della legalità e del buon vivere civile. Ecco, credo che la sicurezza sicuramente rappresenterà un punto importante dell'agenda politica del futuro governo dicendo destra per quanto riguarda il meridione, per quanto riguarda la nostra regione e in particolar modo la nostra provincia. C'è poi il problema dell'occupazione, io credo che sia doveroso da parte del futuro governo cercare di spostare il baricentro della propria azione politica facendo sì che una forma di assistenzialismo puro passi invece per una forma di stimolo ad una formazione delle future generazioni. Io credo che oggi un giovane di 30 anni che percepisce per esempio il reddito di cittadinanza per 2, 3, 4 anni tenendo poi conto che le casse dello Stato non possono garantire un sostentamento vita naturale durante di un giovane è più forse giusto fare in modo che questo giovane percependo gli stessi soldi però vada in qualche azienda a formarsi, ad accrescere quella che è la propria competenza, quello che è proprio conoscere la vita lavorativa anche perché seppur l'azienda non doveva tenerlo nei propri organici, questo giovane si troverebbe arricchito da una conoscenza che è più facile e piacevole nel mondo del lavoro. Sulla questione del reddito di cittadinanza per esempio credo molto che debba farsi una distinzione tra i soggetti fragili, tra coloro i quali anche per età anagratica avrebbero difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro, alle famiglie che magari al loro interno presentano condizioni di disagio e di difficoltà legate anche alla presenza magari di soggetti che presentano problemi di disabilità. Insomma io credo che questo strumento vada sicuramente portato avanti magari anche con denominazioni differenti però in maniera diversa dall'uso massivo e che chiaramente a maglie larghe ha permesso anche degli abusi rispetto allo stesso. Ecco in queste settimane molto si è dibattuto sulla linea politica di Fratelli d'Italia rispetto al reddito di cittadinanza. Una parte importante di nostri concittadini sono orientati a votare per il Movimento 5 Stelle per esempio solo perché temono di perdere il reddito di cittadinanza ma a mio avviso questa è una preoccupazione che non deve sussistere perché noi siamo semplicemente per una maggiore razionalizzazione delle risorse e per un uso un attimino più completo e più esaustivo di queste somme che poi tra l'altro sono somme ingenti perché parliamo di miliardi di euro da spalmarsi in diverse annualità e quindi chiaramente tutto ciò necessita di una riforma strutturale di questo ammortizzatore sociale che è sicuramente una forma di tutela importante per chi non può lavorare, per chi versa in condizioni di disagio sociale importanti ma certamente deve essere distinto invece per coloro i quali in giovane età debbono essere formati e debbono essere pronti a raffrontare il mondo del lavoro. Spero che si sia sentendo purtroppo. Prego prego. No dico spero che si sia sentendo perché purtroppo stando in macchina non so se ci sono difficoltà nella nella recezione o meno. È un po' breccare alla miglia però comunque si è compreso quello che ha detto. Allora lei proviene dalla pubblica amministrazione di cui ne è anche funzionario. Ecco il tema della pubblica amministrazione è un altro grande tema che ovviamente presenta delle sue gravi inefficienze. ecco come pensa che si debba intervenire a colmare poi fondamentalmente queste inefficienze che vanno a riversarsi poi in effetti sulla vita dei cittadini? Sicuramente abbiamo ancora un paese che io dico amo dire che si regge sulle carte nel senso che una sburocratizzazione che è già iniziata però nei fatti debba necessariamente trovare continuità. È necessario che le procedure amministrative siano più rapide e snelle perché spesso un cittadino per avere una risposta ad una sua legittima esigenza a volte aspetta mesi in alcuni casi in particolare addirittura aspetta anni. Perché io credo che una pubblica amministrazione efficace ed efficiente debba invece puntare sulla velocità della risposta perché la velocità della risposta negli anni duemila ma mai siamo nel duemila avanzato rappresenti il pane quotidiano soprattutto per chi fa impresa. Molto spesso le imprese si impantanano nel rilascio di autorizzazioni e permessi vari che rendono difficile poi il proseguimento delle proprie attività. Io credo molto che uno stato efficiente ed efficace sia alla base di un paese civile. È ovvio che la bacchetta magica non c'è, nel senso che noi veniamo comunque e ritireremo una situazione piuttosto complicata per quanto riguarda la pubblica amministrazione che presenta delle falle al suo interno piuttosto evidenti. Basti pensare anche magari ai pensionati dipendenti pubblici che percepiscono la prima pensione dopo diversi mesi oppure anche per le stesse questioni della reversibilità dei dipendenti pubblici rispetto alle quali pure ci sono oggettivi problemi. Quindi è una macchina questa che conosco bene perché ci lavoro, ci ho lavorato quindi so bene quali sono le esigenze che la attanagliano così come anche una riforma strutturale degli stessi ammortizzatori sociali intesi come cassa integrazione ordinaria, straordinaria, cassa inderoga che sono servite in maniera esistenziale a molte aziende soprattutto durante il periodo del Covid. però io credo che piano piano con la dovuta attenzione e con i dovuti tempi tecnici questi strumenti debbano essere rivisitati proprio nell'ottica di cui parlavo prima c'è di un maggiore snellimento delle risposte che lo Stato deve dare soprattutto al mondo imprenditoriale e anche poi ai singoli cittadini che spesso si trovano impantanati in lungaggini che vanno a condizionare il proprio vivere quotidiano. Assolutamente. Allora, dalla sua biografia emerge in effetto un rapporto di amicizia molto stretto con Giorgia Meloni. Quali sono le caratteristiche che secondo lei ne fanno una leader credibile? Perché noi dovremmo affidarci di lei? Una domanda provocatoria. La serietà e la coerenza che ha dimostrato anche in quest'ultime due legislature in particolare nell'ultima legislatura ne abbiamo avuto veramente di tutto e di più al governo giallorussi, gialloverdi, giallobluno oramai diciamo era anche difficile individuare la colorazione dei governi che si succedevano e nonostante le diverse chiamate a ricoprire in carichi di governo anche piuttosto importanti l'Avelone invece è eletta all'opposizione anche se noi in realtà cinque anni fa le elezioni le avevamo vinte da un punto di vista elettorale, però è rimasta nei suoi banchi e nei suoi ruoli di opposizione a momenti costruttiva, a momenti anche più rigida, ma io credo che il biglietto di visita è un progetto politico di Fratelli d'Italia e del suo lì praticamente lineare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale oggi non possono che raccogliere i frutti di un inseminato che dura da da te e ciò che abilità è un'attività e passione La connessione è un po' pregaria, però comunque abbiamo compreso la risposta relativa alla coerenza, alla serietà, all'opposizione che comunque effettivamente in maniera oggettiva è stata sempre mantenuta con coerenza, quindi è chiaro il messaggio Va bene, allora io le ringrazio per questo piacevole dialogo, per aver accettato appunto il nostro invito e ovviamente faccio in bocca al lupo a lei per la sua candidatura, così come faccio con tutti i candidati e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ovviamente come sempre faccio una piccola precisazione questa diretta sarà poi trasmessa più volte sui nostri canali, quindi sulla nostra pagina Facebook con concorsi di formazione giuridica 2021, quindi sarà riproposta anche in riferita sarà poi riproposta sul canale YouTube Centro Studi per Oclamandrei anche sul proprio Instagram Centro Studi Calamandrei quindi come sempre vi invito a seguirci su tutti i nostri canali grazie ancora per la partecipazione e buona giornata a tutti, a presto!